È iniziata da poco la stagione turistica, ma già si tenta di tracciare un bilancio. Come ogni dibattito politico che si rispetti, maggioranza e opposizione hanno pareri contrastanti anche riguardo all'affluenza di bagnanti sulle nostre spiagge. Negli ultimi fine settimana, complice il Sol Leone, è sembrato evidente l'alto numero di turisti presenti sul litorale sanbenedettese, ma non sono mancate le lamentere di diversi operatori balneari colpiti da una crisi di presenze e sembra irreversibile. Tutto a posto, grida invece il sindaco Gaspari, soddisfatto del via vai che caratterizza il fine settimana Riverasco. Non è affatto dello stesso avviso invece il centrodestra, che denuncia una recessione di presenze estive. A dirlo è il capogruppo di Alleanza Nazionale Pasqualino Piunti, che affibbia le maggiori colpe all'operato dell'amministrazione. Il sindaco farebbe bene a prendere di petto questa situazione e a non attivare invece iniziative che possono fungere da deterrente. Vedi lungomare a pagamento, quest'anno anche per le zone limitrofi è fino a mezzanotte, vedi la mancata riqualificazione del lungomare nord che crea di fatto una sperequazione tra Portodascoli e San Benedetto, almeno a destra della ferrovia per quanto riguarda le attività collegate al turismo. Vedi un cartellone estivo a dir poco deludente, vedi anche quelle poche attività che sono state fatte dalla passata d'amministrazione e che sono state cancellate soltanto perché il colore della bandiera è diversa. Questa giunta subisce ancora il fascino della Confesercenti dell'ex sindaco Perazzoli, afferma Piunti. Solo sotto legida dell'associazione infatti si svolgono manifestazioni turistiche. Insomma, non siamo ancora ad agosto, mese clou della stagione estiva, ma già si fanno i conti di fine stagione. Come a dire, la battaglia politica non va certo in vacanza.